Venerdì prossimo alle ore 18 in località Piene da Pignano sarà presentato il libro Una passeggiata nella storia. A realizzare questa passeggiata nella storia è Vincenzo Luca Salini. Ecco, cosa consiste questa passeggiata? Una passeggiata nella storia è il mio quarto libro che ho scritto a ridosso fra il 2018 e il 2019. Diciamo che è un libro suddiviso in tre parti. Nella prima parte ho ricostruito alcune vicende storiche della seconda guerra mondiale, in particolare della spedizione italiana in Russia prendendo spunto dalla circostanza che un nostro illustro cittadino, Bisenti, deceduto nel 2012, ha partecipato a questa tragica esperienza. Quindi ho voluto realizzare un ritratto di questo personaggio, di questo eroe a mio avviso perché comunque gli eroi non sono soltanto coloro che hanno compiuto gesta mirabili. Gli eroi sono anche persone normali che in un certo senso hanno garantito a tutti noi in questo periodo di vivere in una situazione di libertà e di democrazia. La seconda parte invece rappresenta una ricostruzione sociale, culturale e anche di costume degli anni 90. O meglio, come eravamo in quel periodo, come lo vivevamo noi adolescenti di quel periodo e come comunque si viveva all'epoca. A un'epoca, a mio avviso, poi nel libro si evince questa cosa, più florida anche da un punto di vista economico dove comunque con la lira si viveva bene. Le persone erano comunque più serene e vivevano in una situazione di agiatezza molto più ampia rispetto alla situazione attuale. Mentre invece la terza parte rappresenta, per così dire, quell'amo che mi tiene ancorato al mio paese, ossia a Bisenti. Parliamo del vino montonico e di tutto il processo di vinizzazione. In un particolar modo mi sono soffermato sulla vendemmia, la vendemmia come momento aggregativo. Il venerdì 28 verrà presentato il libro a Bisenti, al ristorante La Pantera Rosa. Ci saranno illustri relatori, ci sarà il presidente del Corico Mabruzzo Filippo Lucci, l'editore Arturo Bernava, ci sarà Lorenzo Valeriani, un noto giornalista, Mila Cantagallo sarà la moderatrice e ci sarà anche la consigliera di parità Monica Brandiferi che ha curato la prefazione del libro e comunque mi ha dato una grande mano in questo periodo, in questa fase importante per la stesura e per la pubblicazione del libro.